Assessore, proseguono i grandi appuntamenti a Montesilvano in questa calda estate, domani sera ci sarà Sound of the Sea, un altro appuntamento a cui tenete in maniera particolare? Sì, entriamo nella parte calda della stagione estiva, domani ci sarà un evento a cui personalmente ma un po' tutta l'amministrazione tiene tantissimo, abbiamo la terza edizione del Sound of Sea Festival e quest'anno avremo veramente il piacere di poter ospitare anche un nostro carissimo concittadino che è Critical, che aprirà il concerto di Shade, lui è fresco concorrente di nemici, è arrivato anche al serale, noi gli siamo stati vicini perché è un ragazzo veramente in gamba, oltre ad essere un artista secondo me veramente molto molto bravo e cui auguriamo davvero le migliori fortune, è un ragazzo eccezionale, quindi siamo contentissimi perché sia dal punto di vista artistico sarà un concerto molto molto bello. Francesco Paone, reduce dal grande successo di Amici? Sì, è stata un'esperienza bellissima, io sono super onorato di suonare nella mia città anche perché il Teatro del Mare è sempre stato il mio sogno, insomma il cassetto fin da quando ero bambino. Nome d'arte critical, come mai? È un condubio di un po' di cose, io principalmente sono una persona molto autocritica, credo che mettersi sempre in discussione sia un po' la chiave del successo, sempre pedalare a testa bassa, poi ho voluto aggiungere la Y per fare una specie di gioco di parole perché sono una persona molto sensibile specialmente quando faccio musica e quindi solitamente cerco sempre di arrivare a un punto di lacrime, tra virgolette sia di gioia che di nostalgia, di sofferenza, di qualsiasi emozione.